Le possibilità per Marco Baroni di portare in biancazzurro il suo pupillo, Marcel Buchel, si fanno sempre più concrete. Ieri infatti a Torino c'è stato il vertice tra i dirigenti della Juventus e la gente del centrocampista austriaco nato a Felkirk. Il patto tra gentiluomini stretto a parole tra i dirigenti del Pescara e quelli della Juventus prevedeva un trasferimento di Buchel nel campionato cadetto se non fossero arrivate offerte dalla Serie A. E offerte al momento non ci sono state, anzi l'interesse di alcuni club come Cesena e Verona è andato via via scemando. Stesso discorso anche per la pista estero. Se a questo aggiungiamo che lo stesso Buchel ha esplicitamente dichiarato se torno in B gioco solo con Baroni, la strada per portarlo a Pescara si fa sempre più in discesa. Non è un segreto infatti che c'è un grandissimo feeling umano e calcistico tra il giocatore austriaco e Baroni, il tecnico che lo ha fatto letteralmente esplodere lo scorso anno a Lanciano consegnandogli le chiavi del centrocampo frentano. L'unica squadra che potrebbe ostacolare il trasferimento di Buchel a Pescara è lo Spezia. Il club Ligure infatti sul capitolo ingaggio potrebbe rilanciare ed è pronto in caso a pagare l'intero prestito. Se ciò dovesse accadere entrerà in gioco la volontà del giocatore e qui i dirigenti pescaresi sono molto fiduciosi. Buchel infatti con il suo mentore Baroni potrebbe definitivamente valorizzarsi e Pescara è pur sempre una piazza calda e con una grande storia alle spalle. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.